Sono qua Non con un programma per questa puntata di Duc in Altum Ma per dirvi che questa puntata probabilmente è l'ultima puntata di Duc in Altum Cosa vuol dire? Vuol dire che nella mia situazione fisica Il professore che ha detto di dovermi operare perché ho una sciatica che non mi dà respiro Devo essere pronto alla sua indicazione La sua indicazione è che fra qualche giorno mi taglia, mi opera E operarmi vuol dire dovere assentarmi da questa bella, per me, iniziativa Che da circa 40 anni porto avanti attraverso Teleromania E attraverso la modalità del bel comunicato Perché il consiglio che ha come primo documento l'intermirifica Mi ha sempre invogliato a approfondire il significato dell'annuncio Io mi ricordo quando ero alunno alla Gregoriana Che c'era un padre gesuita meraviglioso Che veniva a parlarci della novità dell'intermirifica E facemmo un corso E disse delle cose che per me erano strabilianti Proprio perché attraverso la modalità dei mezzi di comunicazione sociale Il mondo esplodeva in dimensioni che non erano contemplate Né dai libri dei testi Né dalla storicità dei singoli fatti E allora sono qui a dirvi Grazie di chi mi ha seguito Io ho 40 anni ormai Che faccio questo mestiere tra virgolette con passione E devo ringraziare da persiani in poi Che Teleromagna mi ha sempre seguito E mi ha dato corda Poi ho avuto anche delle belle soddisfazioni Ecco perché quando il Papa venne a Forlì Io ero quello che dirigeva un po' la televisione del tempo E avemmo modo di fare non solo delle belle riprese Ma anche delle conversazioni alla sera fino a tardi Fu una cosa bellissima Io sono andato volentieri sempre In ambito di telecomunicazione Perché è l'aspetto più nuovo Che dal concilio è venuto fuori L'inter mirifica Vuol dire appunto fra le cose meravigliose Che ci sono fra l'inter mirifica Le cose più belle sono quelle della comunicazione Comunicazione sana Comunicazione propria Competente E che dà possibilità a tutti di istruirsi Ecco allora io ringrazio tutti quelli che mi hanno sopportato Mi hanno seguito in questi anni E non so cosa sarà di me Ecco perché io adesso devo prepararmi Per andare sotto al coltello del medico Ecco il professore che mi deve mettere a posta qua la scianca La lanca E poi vedremo Torno non lo so Se è possibile bene Se non è possibile ci sarà sempre qualcuno Che è pronto a entrare a fare il suo mestiere di comunicatore Io vi ringrazio per chi mi ha seguito fino adesso Faccio gli auguri più belli a Teleromagna Che è da quando cominciai io con Persiani In corso della Repubblica Sotto Il suo C'era un negozio di dischi Andavamo là sotto A comunicare da loro in poi Strada se ne è fatta Se ne è fatta tanta Ecco E adesso Teleromagna Si è imposta per serietà Per competenza Per lavoro E anche per programmi Ecco perché ne ha un po' di tutti i tipi Cosa vi devo dire Grazie per chi mi ha ascoltato Che ha avuto la pazienza Di sopportarmi nelle varie puntate Che ho fatto da allora in poi Perché 40 anni di Teleromagna Tutte le settimane Non ho mai lasciato una settimana La lascio adesso Dicendo che il professore Il medico che mi deve tagliare Mi ha detto Basta Fermiamoci E andiamo A mettere a posto le gambe E quando una situazione fisica Comporta questi disagi Non bisogna forzare le cose Grazie a tutti Auguri di seguire sempre Gli sviluppi di Teleromagna Spero che ci possa essere sempre Altra occasione per incontrarci E per adesso Auguro una buona continuità di estate Buon lavoro per chi è già in ambito di programmazione E grazie a tutti quelli che hanno avuto fiducia Nell'apporto che io così piano piano Ho fatto in questi 40 anni a Teleromagna Grazie, vi saluto Auguri di ogni bene Grazie a tutti Grazie a tutti